Sindaco, una vittoria netta? Netta e importante per ragioni diverse, perché qualcuno mi aveva dato per morto, qualcuno aveva ritenuto di chiudere un'epoca, tra l'altro qualcun altro aveva addirittura sostenuto che le primarie erano assolutamente necessarie e decisive e ha avuto la giusta elezione con un voto assolutamente importante che non ammette repliche, non credo che possiamo ancora discutere di questa vicenda, ormai alle porte sono stato sottoposto a una fatica incredibile, ho dovuto fare le primarie, il sindaco contestualmente, mentre qualcuno ha abbandonato il palazzo per fare le primarie, abbiamo dovuto recuperare in due settimane il ritardo di anni, perché questa battaglia qualcuno la conduce ormai da due anni, denigrando la pubblica amministrazione all'attività che noi abbiamo fatto, piuttosto che stare invece a sostenerla e a supportarla e il risultato è uno schiaffo al volto di questa gente che evidentemente dovrebbe adesso ripensare un attimo tutto, però nella vita forse le elezioni servono a tutti, speriamo che servano anche a loro Una partecipazione straordinaria, se lo aspettavo in questi numeri, un record che probabilmente sarà difficile da battere? Io ho previsto una partecipazione intorno a 10.000 cittadini, perché stava nelle cose insomma, la mobilitazione nostra era sicuramente negli ultimi giorni diventata molto ma molto importante Da domani, cambiamenti, che cosa saranno le prime mosse? Questa è un'agittimazione di questi anni di lavoro? Il mio forte sono le sorprese, domani ci saranno sorprese